Il premio letterario internazionale L'Aquila Biper, intitolato alla Domia Bonanni, è un punto fermo ormai delle attività culturali della città dell'Aquila, ma che esce dai confini geografici, portando in città autori e autrici dell'Italia e del mondo. Uno dei premi più longevi, che ha resistito a terremoto e pandemia, e che quest'anno è tornato in presenza per la sua ventesima edizione, seppur limitato, non c'era ad esempio la sezione dedicata ai tenuti. La cerimonia finale all'auditorium del parco, come sempre, ha regalato al pubblico in sala e agli studenti, che sono parte integrante del premio, una giornata ricca di emozioni con la poesia al centro. Una rosa di grande qualità, quella dei tre finalisti, con il primo premio che è andato a Umberto Piersanti con Campi d'Ostinato Amore e che ha concorso con Alessandro Fo con Filo Spinato e Milo De Angelis con linea intera, linea spezzata. Degli autentici big della poesia italiana, ognuno con il suo stile e la sua storia da raccontare. Umberto Piersanti, che cosa c'è in Campi d'Ostinato Amore? C'è la natura, la memoria, il dolore, in particolare quello per mio figlio autistico, la natura. Natura, essere poeta di natura, non significa parlare di un albero, ma fare della natura un soggetto fondamentale, non uno sfondo, come nella tempesta di Giorgione, protagonista è la natura, non i personaggi che sono lì dentro. memoria, sono nato in un tempo remoto, 26 febbraio del 1941, ho fatto a tempo a conoscere l'ultima civiltà contadina, ma non lo racconto nel dolore, nella fatica, come poteva fare il grande Silone, la racconto trasfigurata nella memoria, come mito, come sogno, il mio bisnonno che raccontava le leggende del folletto sotto forma di canoniero che gli saliva nel biroccio, i giochi d'allora, gli sguardi, le inquietudini. Perché amo tanto questa civiltà? Io non sono Olmio Pasolini che la contrappongono come civiltà autentica la nostra. Io dico solo che è totalmente finita, è tutto ciò che è finito, non può che coinvolgerci e commuoverci. Per cui mi sento un poeta che ha da raccontare un mondo che non c'è più. Un altro elemento è mio figlio Jacopo, un ragazzo ormai grande, con un autismo gravissimo, disturbo pervasivo dello sviluppo. I primi tempi non ne volevo parlare, poi l'avevo messo come un mito lontano, come uno con cui... Tra l'altro venivo spesso in Abruzzo, nelle montagne. Allora lui stava molto meglio, perché la malattia è progredita. E allora, oggi invece ci vivo quotidianamente, sono ritornato con sua madre. Non si può abbandonare un figlio autistico, si può abbandonare un uomo, una donna, ma non un figlio autistico. E questo è un dolore grave, che però in un qualche modo non mi fa perdere un'adesione alla ricchezza della natura e ancora di più della vita. Milo De Angelis è uno dei finalisti della ventesima adizione del premio letterario internazionale L'Aquila B per intitolata la Domi e Bonanni, con la Silloge, linea intera, linea spezzata. Che cosa c'è dentro questa Silloge? C'è una serie di incontri con antichi compagni di classe, di vita, di scuola o di squadra, per le strade, per le vie di Milano. Ogni incontro è, come sempre accade, da una parte una rivelazione di se stessi, qualcosa che non sapevamo, e dall'altra un agguato, cioè l'irruzione di una parte sconosciuta che emerge proprio nell'incontro. Poi anche un libro sull'adolescenza, sulle partite di calcio, sulle gare, sulle corse, sulle bande dei ragazzi 12, 13, 14 anni. Per me è sempre una gioia tornare all'Aquila, dove sono stato varie volte per ragioni universitarie, quindi è una città che sento anche in qualche modo collegata a Milano, come una città che ha subito delle grandi ferite, come noi durante la guerra siamo stati bombardati. E qui c'è stato un terremoto, c'è stato qualcosa di terribile che è avvenuto e che ha lasciato un segno. Sono città Milano, l'Aquila o Francoforte o altre, Barsavia, che sanno risollevarsi e risorgere dalle ceneri dopo la distruzione. Questo è un grande merito. Alessandro Fo, l'autore di Filo Spinato, uno dei finalisti di questa ventesima edizione del Premio Internazionale di Poesia, l'Aquila B per intitolata la Dome Bonanni, che cosa c'è nella sua opera? È un librino di poesie che spaziano dalla riflessione sul tempo a quella sulle ultime cose della vita, passando per una sezione che riguarda il carcere, dove il tempo e le cose della vita assumono uno spessore particolare nella percezione dei detenuti e anche degli operatori che come volontari o come operatori agiscono all'interno del carcere. E proprio a proposito, questo premio è sempre andato negli anni passati quando si poteva, non c'era il Covid all'interno del carcere qui a Preturo per portare poesia. Io le voglio chiedere anche un'opinione su questo premio, un premio longevo che ha sempre altissima qualità e ospiti d'onore come in questa edizione di Altissimo Prestigio. È un premio prestigioso, sono molto contento di aver potuto partecipare, di essere arrivato in finale con due luminari della poesia italiana come Pier Santi e De Angelis. L'ospite d'onore di quest'anno è stata Carmen Yanez, grandissima interprete della poesia cilena, compagna di vita e poesia dell'indimenticabile Luis Sepulveda. La Yanez ha conosciuto l'aquila prima del sisma, arrivò in città con Sepulveda stesso e la rivede oggi dopo la tragedia, con ferite ancora visibili, ma con la ricostruzione che finalmente si tocca e come. Nella sua poesia i temi dell'esilio e della sofferenza nel dover abbandonare casa e patria, che trova molte analogie con la città, ma anche con la situazione che oggigiorno vivono i migranti. La prima domanda è sull'aquila. Lei già era venuta all'aquila prima del terremoto, volevo chiederle come l'ha trovata e che analogie ci sono anche nella sua vita, nella poesia. Lei ha sofferto anche l'esilio, la sofferenza, insomma, gli aquilani che hanno dovuto abbandonare le loro case ormai tanti anni fa. Che analogie trova appunto? Ci sono tante somiglianze fra l'aquila e il Cile, territorio natale di Carmen, dato che effettivamente sia il Cile che l'aquila sono effettivamente sismiche. Ogni poco tempo, quasi ogni dieci anni vuole essere Cile distrutta da qualche terremoto. Effettivamente la prima volta che sono venuta all'aquila venne assieme a mio marito Luis Sepulveda e ricordo che ci fece una bella impressione perché era effettivamente una bella città. Poi nell'evento tragico del 2009 ho visto come effettivamente la città soffriva, ma vederla adesso in piena ricostruzione con le persone che sono in grado appunto di alzarsi, di riprendersi, bambini, donne che effettivamente riescono a fare qualcosa, significa di conseguenza che si può fare perché siamo in grado di farlo, abbiamo le forze per farlo. Lei ha nominato Luis Sepulveda, che è un grandissimo, non serve certo presentarlo, un compagno di vita, ma non solo, di poesia, di tutto. Effettivamente Luis è stato il mio compagno di vita e di tante altre cose. L'ho conosciuto quando ero molto piccola, avevo 15 anni, e comunque poi ho fatto assieme a lui una ventina di anni, due momenti di ripresa, evidentemente fino a che lui ci ha lasciato. Un premio, come sempre, di altissima qualità, che negli anni ha avuto in giuria personaggi del calibro di Alda Merini, Sergio Zavoli o Maria Luisa Spaziani. Per la Biper il premio è un appuntamento fisso e ben consolidato, convinti che investire in cultura faccia bene. Tra i fondatori del premio, Stefania Pezzopane, presidente della giuria, composta da personaggi di un certo calibro, locali e non. Bella iniziativa che compie il ventesimo anniversario della sua celebrazione, non poteva essere così bella come è stata quella che si è celebrata proprio oggi, con, insomma, opere molto belle e poi con la ciliegina sulla torta della presenza di Carmen Janez. Sicuramente è un'iniziativa che a noi di Biper Banca fa molto piacere supportare e siamo orgogliosi di essere main sponsor. La cultura, direttore, che non si ferma è la Biper che è essenziale poi nel sostegno a tantissime attività della città, non solo questa. Sì, la cultura non si ferma e, come diceva Pocanzi, in questo momento è ancora più bello realizzare e presenziare a queste manifestazioni con il pubblico. Negli anni precedenti abbiamo assistito a manifestazioni culturali online, per carità sono state realizzate, si è vinta anche la resistenza della pandemia, ma partecipare in presenza a queste manifestazioni è veramente importante. Biper Banca poi consolida la sua vocazione di banca vicina alla cultura su tutto il territorio nazionale, all'Aquila in particolare, abbiamo avuto l'opportunità di essere partner di manifestazioni molto importanti, una delle quali è quella a cui abbiamo assistito, il premio internazionale della poesia intitolato Allodonia Bonanni. Stefania Pezzopane, presidente della giuria, è stata una bella cerimonia finale, è stata soprattutto una bella settimana che ha accompagnato sin qui, l'incontro con la Ianex e con la città, insomma un premio che si dimostra ancora una volta capace di stupire e di grandissima qualità poi negli elaborati che arrivano in finale e che vincono. Sì, davvero un'edizione straordinaria, d'altronde 20 anni sono davvero tanti, 20 anni di cultura, 20 anni di poesia, 20 anni di letteratura. Quest'edizione ha dato un segno forte, sia per la qualità dei premiati, siamo a livelli altissimi della poesia italiana, e poi l'ospite d'onore, Carmen Ianez, che ha dimostrato negli eventi diversi che abbiamo organizzato una grande forza morale, una grande poetica, una grande personalità pur nell'amitezza della persona, dentro c'è un fuoco che arde e che la sua poesia racconta. Sono molto soddisfatta, già pensiamo alla prossima edizione, per il ventunesimo anno del premio Bonanni. Abbiamo già tante belle idee, intanto ci rafforziamo con questa forza che è scaturita da questa edizione, finalmente in presenza, finalmente in tante e tanti, finalmente con gli studenti, che sono la nostra forza. Renato Minori ormai è un punto fermo di questo premio Bonanni, si è tornati finalmente in presenza. Vogliamo dare un po' un giudizio critico su queste tre opere che sono arrivate in finale? Beh, possiamo dire che sono le opere di tre big, di tre protagonisti della poesia italiana, tre protagonisti che rappresentano a loro modo una parte del canone della poesia contemporanea italiana. Così da una parte abbiamo Umberto Pierstanti con la sua poesia tutta legata alla memoria, ma non in senso ecologico, non in senso bucolico, ma proprio come sogno, visione e trasfigurazione. Poi abbiamo Alessandro Faux, che attraverso la storia privata, individuale, della sua famiglia riesce a cogliere alcuni aspetti della vita del paese in maniera leggera, ironica e pungente. E poi Milo De Angelis, che porta avanti anche in questo libro i temi della sua poesia, che sono i temi della drammaticità dell'esistenza, del lutto, della perdita e anche della forza attraverso la visione di recuperare un punto di vista, un appoggio nella realtà stessa.